Ciao a tutti, sono Wona Shoshai e frequento la classe terzo A dell'Istituto Tecnico Commerciale Casimiri di Gualdo Tadino. Oggi voglio presentarvi Bella Bagart by Caterina Calabresi. Bella Bagart è una borsa dall'estetica accattivante, moderna e personalizzabile. Dentro potete metterci di tutto. L'immancabile telefono, chiavi di casa, libro, diario, trousse, porta oggetti, keyway, luci da labbra, molletta e agenda.